Nel fine settimana appena concluso, protagonista assoluta a Pian Castagnaio è stata la nona edizione della festa dei Pici e dei Lumacci, l'evento anno gastronomico che dal 2008 inaugura le manifestazioni estive pievesi, aspettando il tanto atteso Palio di Agosto. All'organizzarla con passione e amore per il proprio paese, la contrada di Voltaia. Sabato, tra Palio di Siena e la partita dell'Italia contro la Germania, la contrada era strapiena, tutti a cena, incollati al maxischermo installato per l'occasione. Finora la festa è andata benissimo, abbiamo consumato un quintale di lumache e le spianatoie sono state ripreparate moltissime anche oggi, quindi la festa sta andando bene. Anche birra e vino viaggiano molto bene, la gente ha partecipato e siamo contenti del risultato ottenuto finora. I bambini che vengono a servire a quelli grandi e tutti quanti, ognuno c'è il suo compito, quando vengono qui senza che loro chiamino, quando c'è la festa del Palio, Crastatone, Feste Lumacci, sono tutti qui a disposizione, tutti quanti, senza che lo chiamino, sanno che è un impegno e serve per la contrada, per la vita della contrada e per tutto. Anche quest'anno la festa ha avuto un grandissimo successo, abbiamo avuto presenze dal paese, paese di limitrofi e anche oltre e questo ci riempie molto di orgoglio. Oggi siamo al terzo giorno di questa edizione, un giorno particolare perché ci è capitato anche il Palio di Siena e come Palio siamo legati al Palio di Siena perché i fantini che orbitano a Piancastagnaio orbitano anche nel Palio di Siena. Siamo pronti a intraprendere questo percorso per quest'altro Palio in maniera vincente, stiamo lavorando per riuscire a ottenere l'ennesima vittoria per la contrada e a coronare un percorso che è iniziato nel 2012 e deve avere un termine, questo termine non lo vogliamo in quest'anno, quest'anno lo puntiamo solo e esclusivamente a vincere.